l'egg benedith è uno dei miei piatti preferiti per il per il brancio lo adoro assaggiando il nostro filtratto i nostri speciality la particolarità del nostro egg benedith e questo uovo cotto a 64 gradi un'ora e mezza quindi questo uovo che noi chiamiamo perfetto questa salsa benedith che è una rivisitazione della salsa olandese quindi un po più leggera il tutto viene servito su questa fetta di pane nuvola è un pane che noi facciamo con un'altra idratazione e cotto poi a vapore un piatto perfetto da condividere con amici da condividere in casa da fare anche la domenica la domenica mattina in famiglia con un'ottima tazza di caffè o perché no una spremuta o un'acqua aromatizzata